La necessità di rivedere la legge e migliorarla è stata ribadita con forza proprio di recente durante la due giorni palermitana della Commissione Nazionale Antimafia. Non un fallimento, aveva detto la Presidente Rosi Bindi, ma certamente le norme che regolano la confisca e il riutilizzo a fini sociali dei beni dei mafiosi vanno modificate. Su questo fronte si sta battendo anche Italia dei Valori, che ha lanciato una raccolta firme per proporre una legge di iniziativa popolare. Valgono 80 miliardi di euro i beni confiscati alla criminalità organizzata, ma spesso non vengono assegnati né utilizzati per fini sociali. Per questo Italia dei Valori chiama a raccolta i cittadini. I gazebo continueranno a raccogliere firme anche nei prossimi fine settimana. La legge ha un fondamento importante, che è quello dell'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla mafia, che deve essere salvaguardato. Però l'attuale normativa, che è stato un passo importante, devo dire, perché se non si aggrediscono i patrimoni, il denaro, i beni che posseggono i mafiosi non si potrà sconfiggere questa piaga. La legge, dicevo, presenta una serie di criticità che l'ha reso a volte inefficace, in quanto vi sono tutta una serie di patrimoni, imprese, denaro contante, titoli che spesso non possono essere assegnati e allora rimangono nelle casse. Il disegno di legge si prefigge di dare un tempo per l'uso sociale del patrimonio della mafia, dopo questo tempo che è sei mesi, cercare di mettere in un circuito economico il cui ricavato vada l'abbattimento della pressione fiscale, vada verso fondi destinati per la lotta alla mafia, per le forze di polizia, tutte quante, tutto questo denaro in maniera tale che la comunità se ne possa impossessare. Grazie. 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 Grazie.